I conti di Alstom si tingono di rosso. Nell'anno chiuso a marzo, il colosso ingegneristico francese ha riportato una perdita netta di 719 milioni di euro. Pesano i costi della ristrutturazione, le svalutazioni in Russia e soprattutto gli accantonamenti. Nonostante la maximulta da 720 milioni di euro per corruzione e inflittale dalle autorità statunitensi, però la società ha registrato un'impennata del 60% negli ordinativi. Proseguono intanto le operazioni di cessione del suo settore energetico agli americani di General Electric con l'idea di chiudere nei prossimi mesi.